A Buda International il presidente della FISCAM Raffaele Rinaldi e il suo vice Thomas Poggi al termine di questa entusiasmante giornata di incontri light, contatto pieno, com'è andata? Io penso che sia andata benissimo, visto che nel circondario c'erano diversi galati, diverse federazioni penso che oggi la FISCAM abbia dimostrato una qualità e quantità non indifferente e sicuramente agli occhi di tutti L'ennesimo evento di successo possiamo dire quindi? Sì, è un altro successo, in un mese abbiamo fatto tre galà consecutivi, ogni 15 giorni abbiamo organizzato abbiamo una media di dai 50 ai 80 incontri tra Light e K.O. penso che più di così non si possa chiedere Noi non possiamo che rifarvi nuovamente complimenti per l'organizzazione, gli attenti soddisfatti, i match al vincenti e alla prossima puntata Noi ringraziamo voi, grazie, grazie alla prossima Grazie a tutti